Se a fine contratto 3 più 2 io non volessi accettare le nuove condizioni, quindi prezzo alto senza motivazioni, ma continuassi a restare all'interno pagando il solito, sono punibile dalla legge? Grazie per la domanda, allora in caso di contratto 3 più 2 il canone è calcolato in base a precisi parametri stabiliti dalle associazioni di locatori e conduttori del territorio, ad esempio metratura dell'immobile, zona in cui si trova, presenza di ascensore, aria condizionata eccetera, oppure classe energetica e simili. Il locatore non può quindi aumentare il canone di locazione a suo piacimento, ma potrà farlo solo se cambiano gli accordi territoriali o cambiano le caratteristiche dell'immobile. Detto questo, se il locatore non le dà disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per altri 2 anni alle stesse condizioni. Se invece gli accordi territoriali o le caratteristiche della casa sono cambiati e l'importo del canone è aumentato, normalmente il conduttore si fa sentire 8 o 9 mesi prima della scadenza per informarla appunto del nuovo canone. Se lei è d'accordo bene, altrimenti il locatore probabilmente le darà disdette e cercherà un nuovo conduttore. Quindi se lei rimanesse in casa pagando quello che pagava prima, il locatore avrebbe diritto di sfrattarla. Ricordiamo anche che a partire dalla seconda scadenza sia il locatore sia il conduttore possono dare disdetta senza fornire alcuna motivazione. Molto bene, questo è tutto. Cosa ne pensate di questa legge? È giusta o andrebbe cambiata? Come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi alla discussione. Alla prossima!